che aspetti per oggi? Che tipo di gara? È una gara difficile da interpretare perché la verità è che non c'è nessuna squadra che probabilmente controllerà e quindi ci sarà una battaglia incredibile sicuramente per la fuga e cercheremo di inserirci. Per tu l'obiettivo è la fuga? Sì, bisogna vedere un po' come andrà inizio corsa, che squadre entreranno e sicuramente se le squadre sia la Vora di Peter che la UE di Fernando entreranno bisognerà cercare di essere presenti. Si sei una fuga e tu sei una fuga, come gestichi il finale con l'ultima salita e due chilometri del finale? Sì sicuramente, essendo un velocista sarà difficile, dovrò semplicemente, come per tutti i giorni i velocisti dovranno cercare di salvarsi le salite e anche oggi cercheremo di tenere duro se siamo davanti. Come stai? Come la fama? No, sto bene, stiamo bene e oggi è anche una bella giornata quindi speriamo di un po' di fortuna. Grazie mille. Ok Luca. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.